Buongiorno, nel contributo odierno parleremo di uno dei più grandi scrittori della storia della letteratura universale. È uno dei più grandi romanzi del Novecento. Affronteremo infatti Robert Musil e quello che è ovviamente il suo romanzo più conosciuto, la sua opera più importante, ossia L'uomo senza qualità, Der Mann Hone Eigenschaften. Un romanzo importantissimo, uno dei più grandi capolavori della letteratura del Novecento, ma potremmo dire di tutta la storia della letteratura, che purtroppo, come sappiamo, tra l'altro rimase incompiuto, nonostante la sua grandissima mole, la sua lunghezza, dato che uno dei romanzi più lunghi, assieme alla ricerca del tempo perduto di Proust, anche capolavori come l'Ulisse di Joyce, sono quei romanzi che in qualche modo rappresentano, definiscono, danno la base anche di quella che è la letteratura del ventesimo secolo, perché dopo queste grandi pietre miliari potremmo dire che tutta la letteratura venuta in seguito è stata in qualche modo influenzata in maniera indelepile da questi grandi capolavori, come L'uomo senza qualità. Musil, ovviamente, è stato un autore importantissimo, che appartiene, lui come Arthur Schnitzel, il grande autore che abbiamo trattato l'ultima volta, alla letteratura mettele europea, alla letteratura austriaca. Lui era nato a Klagenfurt nel 1880 e sappiamo che proveniva da un ambiente penestante della medio-borghesia austriaca. Troviamo questo periodo intorno alla fine dell'Ottocento, dove aveva cominciato a frequentare anche il liceo scientifico e successivamente anche il collegio militare, il suo grande amore per la letteratura che sboccia proprio sul fine del secolo. Ed è proprio in questo periodo che lui comincia a scrivere, siamo sugli inizi del Novecento, comincia a scrivere le sue prime opere, tra cui appunto il suo primo grande lavoro, che sono i tubamenti del giovane Torless. Sappiamo che venne poi scritto intorno agli inizi del Novecento e pubblicato proprio nel 1906, un romanzo di formazione che magari un giorno proveremo anche a commentare. Gli studi di Musil in questo periodo sono molto vari, perché nonostante sia appunto un letterato, quindi uno scrittore, ma in realtà i suoi interessi vanno molto al di là di quello che è il suo campo d'azione, proprio come era tipico delle grandi menti dell'epoca. Infatti studia all'Università Filosofia, nello stesso tempo anche la psicologia, matematica e fisica, addirittura anche all'Università di Berlino, dove si laurea poi proprio nel 1908 in Filosofia. Continua la sua grande attività di letterato e tra l'altro lui si arruola anche nell'esercito proprio anche perché aveva fatto il collegio militare durante quando scoppia la Prima Guerra Mondiale, dove viene mandato a distanza come ufficiale al fronte italiano nel Trentino. Sarà un periodo questo molto importante, perché è proprio in questi anni che lui comincia ad avere idea di quello che diventerà poi il suo romanzo più importante, la sua opera principale, ossia L'uomo senza qualità. Dato che infatti poi dopo la guerra, siamo intorno agli inizi degli anni venti, Musila comincia a lavorare addirittura al fianco del Ministero degli Esteri austriaco, viene trasferito a Vienna. Continua sempre la sua grande attività di letterato, dove in questo periodo conosce tutte le grandi figure della Vienna di quel periodo, possiamo pensare appunto autori come allo stesso Arthur Schnitzer, ma anche Klages, ad esempio, che sarà una grande influenza per la sua opera. Collaborerà tra l'altro anche l'incontro con Hofmannsthal, che sarà fondamentale. Fonda tra l'altro nel 1927 l'associazione rilchiana, come venne definita, di cui faranno parte anche lo stesso Hofmannsthal, ma anche Alfred Doblin, Gerhard Hauptmann e tanti altri grandi personalità del periodo, conoscerà Thomas Mann. Insomma, veramente un periodo storico, questo di grandissima attività culturale. Abbiamo detto anche l'altra volta di quanto Vienna fosse veramente un centro importantissimo da un punto di vista culturale in quel periodo del Novecento, proprio dopo la fine anche della Grande Guerra. Sappiamo poi che chiaramente, poi con l'avvento del nazismo in Germania, nel 1933, anche per il fatto che lui era sposato con una donna ebrea, la sua vita comincia a farsi molto difficile e anche molto precaria. Tanto che infatti, poi dopo l'annessione, sappiamo, dell'Austria, con il 1938, Musil sarà costretto a migrare in Svizzera, nella laterale Svizzera, dove vivrà praticamente fino alla morte, nel 1942. Sappiamo, come stavamo dicendo poc'anzi, che L'uomo senza qualità è sicuramente l'opera a cui lui ha lavorato praticamente per tutta la vita, perché comincerà a scriverla intorno, già verso la metà degli anni venti, e verrà pubblicata la prima parte, i primi due volumi vengono pubblicati a Berlino rispettivamente nel 1930 e poi nel 1933. Ci sarà poi un terzo volume che verrà pubblicato però a postumo, che è rimasto poi incompleto, nel 1943. Quindi è un romanzo che era pensato inizialmente come opera autobiografica, perché di fatto prende spunto molto da quella che era la vita anche dell'Austria, di quel periodo storico, dell'epoca in cui Musil operava, però poi in un certo senso va a descrivere completamente gli ultimi giorni della monarchia austro-ungarica, la fine anche di quell'impero austro-ungarico che per tanto tempo era riuscito, diciamo così, a tenere in piedi anche le sorti dell'Europa, quel suicidio infatti a cui l'Austria venne votata dopo la grande guerra d'altronde e soprattutto poi con l'annessione alla Germania nazista. Quest'opera infatti insieme a tante altre, pensiamo anche ai sonnambuli di Hermann Bloch che in qualche modo avrà una certa risonanza o pensiamo anche oppure agli ultimi giorni dell'umanità di Karl Krauss o il mondo di ieri anche di Stephen Zweig, rappresenta proprio quell'esempio di letteratura che descrive non soltanto la situazione esistenziale che riguardava un certo tipo di umanità che era quella che si era venuta a trovare a cavallo tra le due grandi guerre, ovviamente l'umanità della fine della prima guerra mondiale, l'avvento dei totalitarismi europei e successivamente poi lo scoppio della seconda guerra mondiale. Ma anche come abbiamo detto prima, la fine è proprio di un'epoca, il tramonto definitivo di un'Europa che non esisterà più praticamente dopo la fine ovviamente di questo impero, anche proprio per il fatto di come tutta l'Europa si andrà, soprattutto anche l'Europa dell'Est che si andrà a frammentare dall'Ungheria alla Repubblica Sceca ottenendo inizialmente poi un'indipendenza che verrà, sappiamo, successivamente risucchiata prima dal nazismo e poi successivamente dall'Unione Sovietica. Questo romanzo infatti descrive che lunghissimo, sappiamo, sono più di mille pagine, non si può definire la storia di un personaggio in particolare perché qui troviamo tanti personaggi, tante tematiche che confluiscono al suo interno. Comunque, se vogliamo trovare il protagonista è la storia di questo matematico di nome Urlich che ha circa 32 anni, più o meno appunto la vita, l'età anche che aveva Musil, forse un pochino più grande quando aveva cominciato a scrivere questa sua grande opera che cerca di trovare in qualche modo un senso nella vita e nella realtà ma che trova molto difficile tanto che infatti appunto viene in qualche modo definito si può definire gli stessi un uomo senza qualità per il semplice fatto che non riesce a trovare uno spazio nel mondo vaga appunto per questi salotti della borghesia ormai di quella aristocrazia decadente della Vienna di inizio secolo mantenendo tendenzialmente anche un'attività passiva verso tutti gli eventi che cominciano a succedere che capitano che gli si pongono davanti nel frattempo incontra anche altri personaggi incontriamo personaggi molto importanti come Mosbrugger che è stato che era un assassino che era stato condannato per l'omicidio di una prostituta altri personaggi importanti sono le amanti di Urich come Bonadea e Clarisse chiaramente il romanzo è ambientato nella Vienna del 1913 quella che anticipa lo scoppio della prima guerra mondiale l'aspetto più interessante appunto è che all'interno di questo scenario di questo quadro espressionistico Musil ci sta dando una chiarissima definizione di quello che era il clima dominante in quella che forse all'epoca era la città più importante d'Europa assieme a Parigi proprio per queste grandi differenze anche di ritrovi culturali intellettuali che si vanno costantemente a dialogare tra loro troviamo appunto il personaggio che è in preda al bisogno di nazionalismo che quindi è favorevole anche alla guerra poi troviamo ovviamente l'elemento più da psicanalisi ovviamente discussioni sulla morale sul pragmatismo anche sul positivismo che ovviamente all'epoca ancora era contro una concezione che la faceva che aveva un grande seguito questa aristocrazia questi salotti nobiliari che però vengono descritti anche da Musil come dei responsabili diciamo così anche della stessa distruzione dello stesso annientamento dell'Austria perché infatti il titolo l'uomo senza qualità perché lo stesso personaggio di Urrich il nostro protagonista è un inetto un po' come i personaggi che trovevamo in Svevo non a caso cioè quei personaggi che sono più improntati alla passività al vedere gli eventi che capitano davanti a loro piuttosto poi che a prendere delle serie posizioni a riguardo ed è anche proprio questa questa passività che in qualche modo ha avvolto il Novecento questa è anche la riflessione che Musil implicitamente riesce anche ad esprimere queste masse che vanno votate al macello come è avvenuto con la prima guerra mondiale se ci pensiamo così come quelle stesse masse che hanno appoggiato in maniera indiscriminata in maniera passiva il fascismo il nazismo in Germania è una condizione in cui l'uomo diventa sempre più spettatore di se stesso piuttosto che vero padrone della propria vita dei propri mezzi anche per una burocrazia per un apparato che continua che si emerge che si erge sempre di più al di sopra dell'individuo quindi sono soltanto alcuni dei temi che possiamo affrontare chiaramente si tratta di un romanzo molto lungo come abbiamo detto estremamente complesso dove ognuno può trovarci un po' quello che vuole anche e soprattutto se consideriamo che questo romanzo Musil ci ha lavorato praticamente per più di 15 anni si può dire fino praticamente alla sua morte fino al 42 quella stessa Germania quella parabola che infatti rappresenta si può dire il mondo che va dagli inizi della prima guerra mondiale infatti il testo è ambientato come abbiamo detto inizia almeno nel 1913 e si va a concludere proprio nel 42 che forse è l'anno peggiore anche della guerra con la morte di Musil e in qualche modo il canto del cinio anche dei personaggi dello stesso Urlich di quell'Austria che alla fine da paese così liberale anche la Vienna che era così aperta come ci viene descritta all'inizio ma che presenta già quegli strani tratti quell'inquietudine esistenziale che già come abbiamo visto trovavamo nel bellissimo romanzo di Doppio sogno di Schnitzer quell'Austria che nasconde un'anima che però è già decadente che già va verso le vie del male potremmo dire sarà come è possibile anche la domanda che implicitamente lo stesso romanzo ci fa che quell'Austria così aperta così liberale così ricca che di principi democratici sia stata sia riuscita poi improvvisamente ad abbracciare l'antidemocrazia per eccellenza che appunto è stato il nazionalsocialismo questi sono appunto alcuni aspetti che vengono indagati in questo romanzo che è ricco ad esempio di monologhi interiori di dialoghi estremamente ferrati è anche un romanzo molto difficile da leggere bisogna insomma stare molto attenti anche per ogni capitolo perché a differenza di altri testi che magari possono presentare una maggiore descrizione anche degli ambienti esterni qui Musil fa un grande lavoro di scavo di scavo introspettivo un po' come quello che farà ovviamente che aveva fatto anche Proust nella ricerca del tempo perduto è un aspetto che questo viene molto tenuto in considerazione di andare appunto ad analizzare i personaggi sempre andando a scendere maggiormente nelle profondità e qualche modo analizzando questi personaggi così bizzari alcuni anche molto grotteschi così diversi tra loro in qualche modo Musil sta facendo un'analisi perfetta di quella che era l'Austria di quella che era la situazione appunto di quella vecchia della vecchia monarchia asburgica prima ovviamente del tracollo e anche di quell'Europa che si andrà poi ovviamente a suicidare prima con la grande guerra e poi con l'avvento dei totalitarismi L'uomo senza qualità è probabilmente anche il romanzo l'opera più importante nella descrizione della fine di un'epoca la fine di un'epoca che poi avrebbe aperto le porte ad un periodo di estrema incertezza come il mondo che oggi noi stiamo vivendo d'altronde dove non si trovano più in molti casi strade comuni dove ognuno la pensa come vuole dove vige il soggettivismo l'irrazionalismo più assoluto in molti casi e dove quindi anche quest'idea di unità di valori comuni che in qualche modo identificava l'Europa si andranno sempre di più a perdere o comunque ad occultare ed è per questo che L'uomo senza qualità di Musile rimane indubbiamente un romanzo fondamentale un'opera imprescindibile per capire non soltanto il Novecento ma per afferrare appieno quello che è stato e che significa ancora oggi il significato di modernità grazie grazie